Loro sono Emi e Bianchina, sono due sorelline di una cucciolata di sei, hanno circa quattro mesi. Anche loro sono state recuperate dalla strada. Bianchina era la più magra della cucciolata, per cui abbiamo subito pensato di portarla dal veterinario, il quale ha subito evidenziato una infezione intestinale. È stata ricoverata in clinica, è stata intubbata, però in realtà ce l'ha fatta, ora è qui con noi e cerca casa. Sono due cagnoline socievoli, sono di taglia media, Emi soprattutto è dolcissima, ha bisogno di essere rassicurata, è un po' più timida. Invece Bianchina è assolutamente super vivace, anche per loro se ci fosse un'adozione di coppia sarebbe perfetto, ma ci accontentiamo anche di un'adozione singola. Purtroppo il randaggismo è davvero un problema mai risolto nel nostro mezzogiorno. Le normative ci sono, il randaggismo dovrebbe essere sconfitto da tanti anni. E in questo caso le nostre due cagnoline, così come il resto della cucciolata, sono quindi salve grazie ai bravi volontari della Leida. Sono delle biondine proprio come te Camillo, anche tu fra un pochino andrai a casa di qualcuno, ma ora stai qui, riposa e diamo il numero per adottare le nostre cucciole di cosenza. Il 339-8172-602.